Nasce il protocollo di intesa siglato tra la Regione Calabria e l'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma con lo scopo di potenziare la rete pediatrica in Calabria e ridurre drasticamente l'emergenza sanitaria. L'accordo che entrerà in vigore dal 9 gennaio è stato presentato oggi in una conferenza stampa nella sede dell'Aggiunta Catanzaro alla quale hanno partecipato il Governatore e Commissario della Sanità Calabrese Roberto Chiuto e il Presidente del Bambino Gesù, Mariella Enoch. È un accordo per noi molto importante. Ringrazio il Bambino Gesù, la sua Presidente, la Presidente Enoch perché qualche mese fa, dopo la tragedia di Mesoraca, ci incontrammo. Io raccontai alla Presidente la mia volontà di investire sul sistema della pediatria in Calabria e fui colpito dalla sensibilità della Presidente che mi dimostrò subito grande disponibilità. Questo accordo non risolve il problema del potenziamento e della riorganizzazione della pediatria in Calabria. Non è una soluzione a tutti i problemi di questo ambito, ma è un accordo molto importante per noi perché dà la possibilità ai pediatri calabresi, ci sono delle eccellenze fra i pediatri calabresi, ma a tutti i pediatri calabresi di poter acquisire competenze specialistiche in raccordo con la prima struttura d'eccellenza in Pediatria in Italia che è il Bambino Gesù. Darà la possibilità di assicurare un'assistenza territoriale, una informazione. Darà la possibilità a tante famiglie che si recano al Bambino Gesù e poi ritornano al Bambino Gesù anche per visite ambulatoriali, 10.000 visite ambulatoriali all'anno per bambini calabresi al Bambino Gesù. Darà la possibilità a molte di queste famiglie di essere seguite in Calabria in stretta connessione col Bambino Gesù. Quindi un accordo molto importante che, come ho detto, non risolve tutti i problemi ma ci stimola a proseguire su questa strada per potenziare il sistema sanitario della nostra regione anche nella pediatria, valorizzando le eccellenze che ci sono mettendone in connessione con strutture di autentica eccellenza come il Bambino Gesù. Quindi grazie al Bambino Gesù e grazie alla sua Presidente Enoch.